Se questo è lo scenario strategico dentro il quale si sta muovendo TELT, dobbiamo ora cercare di capire concretamente che cosa sta succedendo. C'è per cui abbiamo immaginato una seconda rubrica che si chiama Inside. Inside si suovere dall'interno la vita del campionato che è stata abbastanza chambulata per la crisi del coronavirus. Quali sono gli obiettivi operativi di TELT nel 2020? La domanda ha un senso soprattutto per capire come è stato riorganizzato il lavoro dopo l'inattesa emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e al conseguente lockdown della scorsa primavera. Con l'inizio della pandemia abbiamo attivato un tavolo insieme con le direzioni lavori per riscrivere i piani di sicurezza. Questa attività ha comportato circa 10 giorni di lavoro per adeguare i piani di sicurezza alle indicazioni che ci sono state date dai due governi, italiano e francese. In particolare queste indicazioni si possono sintetizzare nell'utilizzo dei dispositivi personali, quindi le mascherine e il distanziamento sociale. Tutto questo sui cantieri significa portare gli operai sul fronte di scavo con più mezzi di trasporto o spogliatoi ampliati in modo da assicurare più spazio tra gli addetti. Continuità garantita invece per le attività amministrative grazie al telelavoro. La prosecuzione in sicurezza delle diverse attività risulta importante per ciò che è in programma nei prossimi mesi. On è in una fase molto interessante perché alcuni cantieri sono in cours, alcuni altri sono in fase di appello d'offi e abbiamo ancora di appello d'offi in preparazione. All'inizio della primavera 2020 risultava scavato. Oltre il 18% dei 162 chilometri di gallerie previste per l'opera, ovvero i due tunnel paralleli di base dove scorreranno i treni, le quattro discenderie e i 204 bypass di sicurezza, nonché i 68 chilometri di sondaggi geognostici e carotaggi in Italia e in Francia. In particolare sul lato francese sono stati completati nel settembre 2019 i primi 9 chilometri del tunnel di base con la fresa Federica nel cantiere di Saint-Martin-la-Porte. Ora lo scavo sta procedendo con il metodo tradizionale. Si è operativi anche al cantiere di Saint-Jean-de-Maurienne. Che è la zona di uscita del tunnel di base dove ci sarà l'interconnessione con la linea storica francese. In questo settore, quindi sono lavori all'aperto, è in corso di realizzazione un complesso sistema di spostamento della linea storica lato Francia, quindi della linea in esercizio per fare posto ai lavori di realizzazione dell'interconnessione ed in particolare c'è la zona della stazione dove stiamo realizzando il polo multimodale e quindi verrà realizzata la stazione che diventerà una stazione provvisoria fino a che non verrà realizzata la stazione definitiva e verrà completato quindi poi l'intero lotto dei lavori. Sempre sul lato francese, da un anno, si sta costruendo sotto l'autostrada A43 la Tranchée Couverte, galleria artificiale che diventerà l'imbocco del tunnel di base. Inoltre, a Saint-Julien-Mont-Denis e Villars-Gondran è in corso il consolidamento delle dighe di protezione lungo il fiume Arc. Sul lato italiano, prime operazioni di ricognizione a Salbertland per realizzare il sito di smistamento e di valorizzazione dello smarino, il materiale di scavo proveniente dal tunnel di base che sarà portato ai depositi di Caprie e di Torrazza-Piemonte. Alla discenderia della Maddalena, a Chiomonte, sono stati aggiudicati appalti del valore di 40 milioni di euro per costruire 23 nicchie di interscambio. Queste nicchie servono a garantire l'incrocio e la movimentazione dei mezzi all'interno della discenderia della Maddalena. La discenderia è di diametro piuttosto piccolo, 6 metri e mezzo, e di conseguenza non garantisce la possibilità né di incrocio né di manovra da parte dei mezzi che dovranno operare all'interno della galleria. Per questo motivo abbiamo previsto lo scavo di 23 nicchie, diciamo di 23 piazzole all'interno della galleria ovviamente, che hanno una lunghezza di fra i 35 e i 55 metri e una profondità utile di circa 6 metri, e saranno distanziate fra loro di 400 metri e quindi garantiranno la possibilità di incrocio e di manovra dei mezzi all'interno della galleria. A fine giugno si è conclusa la prima fase dell'allargamento di circa un ettaro dell'area di lavoro della Maddalena, operazione che segna la trasformazione del sito in vero e proprio cantiere del tunnel di base. In questo modo è stata acquisita l'area in cui sarà realizzato lo svincolo autostradale a Chiomonte da parte della CTAF, faciliterà l'accesso dei mezzi dall'A32 alla Maddalena. La nuova infrastruttura, ora funzionale al cantiere, potrà rimanere poi a disposizione della comunità locale a lavori terminati. Inoltre si sta organizzando lo spostamento dell'autoporto di Susa nel comune di San Didero per consentire i lavori nella piana. In totale il 21% delle opere previste risulta già appaltato. Sul versante italiano sono stati affidati 5 appalti per un totale di oltre 40 milioni di euro. Monitoraggi ambientali, sicurezza sul lavoro, gestione dei materiali di scavo, protezione e mantenimento dei cantieri. Sul versante francese il CDA di Telta ha autorizzato la firma del contratto di oltre 200 milioni di euro per costruire quattro pozzi verticali di ventilazione in Morienne, nel comune di Avrieux, ma non solo. Sono in corso le gare per un valore complessivo pari a 2 miliardi e 300 milioni di euro per la realizzazione dei trellotti del tunnel di base Lato Francia. Con la nostra equipe implantata in Morienne, noi manteniamo relazioni molto strette, in priorità con le maire e anche con il sindicato del paese di Morienne e le altre collettività locali. Per esempio, per esempio, per la protezione dei inondazioni di tutto il settore di Saint-Jean-de-Morienne, ma anche per i benefici indiretti che noi generiamo con l'argento disponibile per la démarche Grand Chantier, per finanziare delle operazioni di aminaggio con il Departamento, la regione e il sindicato dei Pays di Morienne. Grazie. Grazie.